E queste sono tutte mancette che i governi via via hanno dato. Gli 80 euro di Renzi spariscono? No, su questo punto dobbiamo ancora approfondire, perché questi 80 euro non hanno avuto il risultato che si pensava avessero, perché l'aumento di posti di lavoro non è stato di posti di lavoro a tempo indeterminato, ma solo o quasi solo di posti di lavoro a tempo determinato. Allora con un tempo determinato un giovane non può guardare avanti, non può pensare di farsi la famiglia, di comprarsi la casa. E quindi anche le aziende hanno una grande convenienza ad avere del personale a tempo indeterminato. Perché? Perché il personale migliora, impara meglio il lavoro, si affessiona all'azienda, guarda il futuro dell'azienda come futuro suo. Quindi io ho avuto oltre 50 mila persone, quindi so che il patrimonio più importante di un'azienda, oltre all'idea magica, è il suo personale.